Sono Veronica Tripodo, rappresentante dell'Istituto del Galilei, oggi è il terzo giorno della nostra protesta e per chi non lo sapesse stiamo protestando perché non abbiamo spazi, non vogliamo rischiare di venire a scuola il pomeriggio, di ricorrere di nuovo alla direttiva a distanza anche perché in questo periodo del lockdown abbiamo veramente compreso il vero valore della scuola. Chiediamo l'aiuto di tutte le istituzioni a che possano aiutarci a trovare la nostra scuola perché siamo qui per questo, siamo ragazzi di 16, 17, 18 anni che cercano soltanto di trovare una soluzione nel tempo più breve possibile. Sicuramente non ci fermeremo, quindi... non vogliamo un conflitto, ma abbiamo il diritto. Voglio studiare? Lasciamelo fare! Voglio studiare? Lasciamelo fare!